Franco Polvenini, allenatore dell'Hockey Club Follonica, che sulla pista Mario Parri di Grosseto batte la squadra bianco-rossa con il punteggio di 11-4. Al di là del risultato, una partita mai stata in discussione, una squadra almeno per buona parte dei due tempi sempre molto concentrata. Poi alla fine calo di concentrazione, ma probabilmente anche normale, visto il risultato ormai acquisito, anche se non avete ancora passato il turno di Coppa Italia. Allora, iniziamo sì con la partita, è stata una bella partita, in confronto magari alle prime due è già un pochino più di amalgama tra la squadra. Abbiamo tre gruppi diversi di allenamento, quindi trovare un pochino di call. Il gioco è un po' difficile, nelle prime due partite è stata un po' più complicata. Invece stasera siamo riusciti a pattinare tanto e a macinare tanto gioco. Poi passando subito in vantaggio di tre o quattro gol è stato tutto un po' più facile. I ragazzi si sono trovati, dopo un po' di caldo di concentrazione, ma era normale, con una differenza di 7-8 gol di scarto. Sono riuscito anche stasera a far girare tutta la rosa, quindi sono contento per tutti. Il turno, diciamo che se riusciamo a passarlo in casa con il Castiglioni, benissimo. Se non riusciamo è stato tre partite di preparazione per il campionato dove dobbiamo solo fare esperienza e quindi va bene così. Hai due ottime chiocce però che ti danno una mano, che sono Bonarelli e Cadiddu, che quando non sono impegnati in Serie 1 scendono volentieri in A2, anche perché per loro è importante minutaggio, oltre che naturalmente esperienza con ragazzini, alcuni davvero molto giovani, anche se di belle speranze. Sì, certo. Il progetto A2 serve a questo, serve a far giocare chi ha meno un minutaggio in A1 e a far crescere i bimbi che vengono su dalle giovanili. Fino a quando riusciamo a fare questa amalgama di giocatori, credo che riusciamo a fare tante cose positive. È tutto un anno di esperienza e quindi metterà un pochino di pepe a tutti quanti. Quindi è un'ottima prestazione e speriamo che il futuro ci dia una mano. Grazie. 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 Grazie.